I comuni della Valfino escono dalla zona rossa. Questa mattina il presidente della regione Marco Marsiglio ha firmato l'ordinanza di revoca della misura restrittiva per i comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita e Montefino ed è efficace dalle ore 14 di oggi. La revoca della zona rossa fa seguito alla relazione presentata dalla ASL di Teramo. L'andamento epidemiologico mostra, si legge nel documento dell'azienda sanitaria, in particolare negli ultimi giorni di questa settimana, un sensibile decremento dei casi covid-19 positivi e la diminuzione nel complesso dell'attività di sorveglianza sanitaria, in particolare per Castiglione Messer Raimondo e Castilenti nella popolazione del predetto territorio. Ciò in associazione al numero di guariti dichiarati nell'ultima settimana. In conclusione, pur non ricorrendo più ad oggi sotto il profilo igienico-sanitario nei comuni della Valfino le condizioni di zona rossa proseguiranno le attività di prevenzione territoriale anche nei predetti comuni da parte del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. In modo particolare l'effettuazione dei tamponi e la sorveglianza sanitaria. Già ad inizio settimana un altro comune della Valfino, l'unico del comprensorio facente parte della provincia di Pescara, Elice, era uscito dalla zona rossa assieme ai comuni Vestini di Penne, Civitella Casanova, Farindola e Montebello di Bertona. Due giorni fa revocata la medesima misura per Caldari, frazione del comune di Ortona.